Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, grazie dell'ospitalità a Campus Party. Io sono Marco Cappellini, vi parlo stamani di Art Centrica e faccio partire una presentazione. Art Centrica che porta una nuova esperienza con l'arte nel mondo educativo e anche oltre. Grazie. Buongiorno a colmare un gap che esiste fra arte e settore educativo e nel caso specifico Art Centrica fa parte di un po' della classe di prodotti che negli ultimi anni viene identificata con EdTech, cioè Education e Technology. Vediamo che negli ultimi anni sempre più viene data giustamente importanza alle soft skills, quindi alle capacità di essere empatici, di capire che cosa sta accadendo e con quale rapidità a livello globale. E questo è sempre più importante per i giovani e attraverso Art Centrica, attraverso l'apprendimento dell'arte in questa modalità nuova e innovativa, contribuiamo allo sviluppo delle soft skills. Inoltre l'arte è da sempre qualcosa che potenzia ognuno di noi, ci fa capire meglio, ci fa relazionare meglio gli uni con gli altri e quindi in definitiva pensiamo che questo possa contribuire alla vita di ognuno, quindi Art Centrica a questi obiettivi. Ci sono dei fenomeni che stiamo assistendo nel mercato EdTech, quindi nelle education e technology, che abbiamo riassunto in questa slide. In sostanza sempre di più contenuti digitali vengono utilizzati e consumati in continuazione, sempre a maggiore qualità e sempre con nuovi dispositivi. Le esperienze con i contenuti digitali diventano sempre più personalizzate perché ognuno di noi ha le proprie specificità e quindi questo è un trend in corso e i percorsi di apprendimento anche essi devono e dovrebbero essere sempre più personalizzati. Inoltre c'è anche un altro fenomeno che è il fenomeno di passaggio dalla dimensione unicamente STEM, cioè Science, Technology, Engineering e Mathematics come materie principali per l'apprendimento, a STEAM, quindi all'inserimento dell'arte all'interno dei curricula e dei percorsi formativi. Art Centrica è un'applicazione cloud, quindi diciamo che viaggia attraverso la rete internet, che funziona attraverso browser internet, quindi in modo molto semplice, e che permette di apprezzare, apprendere l'arte secondo attraverso delle ottiche specifiche, quindi anche con delle correlazioni tra l'arte e la natura, l'arte e la storia, l'arte e i luoghi e la cultura. Quindi questo intreccio, queste correlazioni che vi cercherò di illustrarvi fra poco, sono uno degli elementi di interesse di Art Centrica. Art Centrica oggi già include una serie di collezioni museali, parti di collezioni museali, di musei importantissimi, a partire dagli uffizi di Firenze, noi come Centrica siamo un'azienda fiorentina, la Pinacosegari Brera di Milano, il Metropolitan Museum di New York, Rix Museum di Amsterdam, l'Istituto Centrale per la Grafica di Roma, e anche altre collezioni che vi illustrerò a breve. La nostra value proposition, come si dice, quando si vuole evidenziare qual è il valore che noi portiamo nel mercato e all'interno degli industry stakeholder, è che con Art Centrica portiamo una nuova esperienza che è sia di apprezzamento dell'arte, sia di tipo educativo con caratteristiche pedagogiche. E questo, diciamo, è un po' la combinazione di questi elementi, è un po' la novità della nostra proposta, e vogliamo portare questo tipo di esperienza a livello globale, quindi nelle scuole e nelle università di tutto il mondo. E come dicevo all'inizio, Art Centrica è accessibile attraverso cloud, quindi sia all'interno delle scuole, nella lavagna interattiva in classe, sia attraverso i propri dispositivi personali, che siano tablet, computer portatili, a casa. E come abbiamo avuto tutti i modi di sperimentare in questi ultimi due anni, sempre più, diciamo, le attività didattiche avvengono anche in modalità remota. E il percorso di apprendimento e l'apprendimento è qualcosa che sempre più viene distribuito attraverso vari tipi di canali e dispositivi digitali. Qui, diciamo, vengono evidenziate alcune caratteristiche, che però io invece che farvi vedere con le slide, cerco di farvi vedere direttamente nell'applicazione. Quindi passo, diciamo, non faccio altro che andare su un'altra tab del browser e vado a illustrarvi e farvi vedere come funziona Art Centrica. Qui vedete una serie di miniature di opere d'arte, prendiamone una famosissima e vediamo in alto a destra, quindi la Primavera di Sandro Botticelli. Per ogni opera è possibile avere delle funzioni che sono sia una funzione intanto informativa, attivo con questa finestra, una descrizione dell'opera, una descrizione storico-artistica, delle caratteristiche tecniche, ad esempio le misure, e riguarda le misure, in alto a destra vedete anche una miniatura dell'opera che è rapportata a una figura umana, e questo vi fa capire anche visivamente qual è la dimensione di quest'opera. Qui siamo nella versione localizzata in inglese, è disponibile anche la versione in italiano, e via via cerchiamo di aggiungere anche altre lingue, lo spagnolo probabilmente sarà una delle prossime. Per ogni opera è possibile fare quello che io sto facendo, quindi ad esempio avvicinarmi ad un dettaglio, e avvicinarmi ad un dettaglio, tanto più è definita l'immagine che io sto analizzando. Quindi in questo caso l'immagine è un'immagine davvero ad altissima risoluzione, su questo focalizzerò un po' la vostra attenzione più avanti quando parlerò della digitalizzazione, però come vedete in questo caso si riesce ad arrivare a un dettaglio davvero molto piccolo, e questo dettaglio io posso anche andare a misurarlo virtualmente sulla superficie dello schermo, questi sono 0,89 inch nel sistema metrico anglosassone, quindi più o meno siamo sui due centimetri. E questa è una delle caratteristiche della piattaforma che permette di fare queste misurazioni istantanee su un'opera come questa, che come avete visto è grande 3 metri per 2 metri. E ovviamente con questa definizione e gli strumenti che Arcentrecar fornisce, cioè per esempio la possibilità di avvicinarmi ad un dettaglio istantaneamente come sto facendo, diciamo l'esperienza con questa opera d'arte è nuova, nel senso che non è come essere al museo, essere al museo è un'esperienza specifica e che diciamo è bene fare, però è bene fare secondo noi anche con maggiore consapevolezza di ciò che si va a visitare e quindi il tema di realizzare una visita prima della visita fisica, una visita attraverso dispositivi digitali, attraverso applicazioni come Arcentrecar, riteniamo che possa essere molto utile. Questa caratteristica della visualizzazione dell'opera è una delle caratteristiche della piattaforma, ad esempio un'altra che vi mostro è questa che ad esempio vado a prendere un'opera di Michelangelo, il Tondodoni, e ad esempio un'opera di prendiamo di nuovo Botticelli, però con un'opera che è conservata in un altro museo, quindi non è conservata agli uffizi, ma quest'opera di destra, se non mi ricordo male, è presente all'Ostede del Museum. Quindi con questa funzione di comparazione io in pochissimi gesti, pochissimi tocchi, riesco a confrontare due capolavori, il Tondodoni di Michelangelo a sinistra e il Tondodoni è l'unica opera pittorica di Michelangelo che è invece famoso per le sculture ed è l'unica opera pittorica che comunque, diciamo, anch'essa, se vedete anche come è rappresentata il volto e anche gli altri personaggi, ha una caratteristica di tridimensionalità che ad esempio Botticelli non ha. Botticelli è più, diciamo, caratterizzato da una rappresentazione bellissima e fantastica di molti femminili, nonché di altri personaggi, però, diciamo, più bidimensionale. Quindi con Arcentrica io posso andare a confrontare istantaneamente due opere come quelle che state vedendo e in questo caso due opere che appartengono a collezioni diverse. la stessa tipo di caratteristica del confronto la posso fare, ad esempio, anche con una ricerca. Quindi vado a cercare, ad esempio, tutte le opere che hanno il tema della annunciazione e quindi in questo caso vado ad esempio a confrontare l'annunciazione di Leonardo da Vinci con l'annunciazione di Botticelli e ad esempio mi pongo l'attenzione su il gesto dei due angeli nelle due opere e come vedete anche in questo caso diciamo è rapidissimo la possibilità di visualizzare questi dettagli. E poi magari mentre sono, diciamo, a esplorare l'annunciazione di Leonardo noto che sullo sfondo dell'opera c'è un paesaggio, ci sono delle imbarcazioni e, diciamo, mi avvicino per capire meglio e magari noto che sulla vetta di questa torre c'è una mezzaluna e alcuni dicono che nella mezzaluna va a identificare questa città come Bisanzio, come, diciamo, l'attuale Istanbul. Questa è una delle caratteristiche della piattaforma che permette, diciamo, di visualizzare così nel dettaglio e con la dovuta calma, cosa che ovviamente non è possibile fare al museo dei dettagli che spesso possono anche portare a delle nuove scoperte. Ad esempio, qui abbiamo il manoscritto con dei caratteri che a mia conoscenza non sono stati ancora decifrati, però la disponibilità di questa, di quest'opera, con questa risoluzione e con questa facilità di accesso può consentire a studiosi a livello globale di capire che cosa sia scritto in questo libro. Torno alla vista principale e vado, ad esempio, a selezionare gli artisti piuttosto che le opere d'arte e seleziono il bronzino. Selezionando il bronzino mi viene, e selezionando l'artista viene evidenziata una scheda che racconta dell'artista e descrive, diciamo, e riporta nella colonna di destra le opere che sono presenti all'interno di Arcentrica e che fanno parte della produzione dell'artista e in questo caso nel bronzino, per esempio, decido di comparare due opere che sono queste due, quella di sinistra il ritratto di Francesco dei Medici che è conservato alla Galleria degli Uffizi a Firenze mentre il ritratto di un giovane uomo a destra che è conservato al Metropolitan Museum di New York. e quindi in questo caso, ad esempio, vedete quanto sono, diciamo, simili anche le raffigurazioni dei volti in queste due opere e di nuovo è interessante farlo, diciamo, con questa rapidità e questa facilità. Un'altra caratteristica della piattaforma è la possibilità di visualizzare tutte le opere d'arte che fanno parte della collezione di Arcentrica all'interno di una linea temporale e la linea temporale, come vedete, va dal 300 dopo Cristo a, diciamo, ai giorni nostri e attraverso queste funzioni di zoom temporale e anche di trascinamento, io vado a posizionare la mia attenzione e, diciamo, la mia ricerca delle opere nel tempo in un periodo specifico e, ad esempio, come vedete, io sto andando nel periodo a cavallo, diciamo, fra 1500 e 1600, via via che faccio delle analisi più dettagliate in periodi più ristretti e vengono fuori nuove opere che ovviamente appartengono a quei periodi e quindi continuo questa operazione di di zoom e magari individuo un'altra opera, in questo caso un'opera di nuovo del bronzino che è il ritratto di Lucrezia Panciatichi e vado ad analizzare il ritratto e magari mentre analizzo questo ritratto sono incuriosito da un dettaglio, da un gioiello. questa caratteristica di diciamo di interesse questo e questo mio interesse può essere diciamo è un po' l'origine anche di un'altra caratteristica della piattaforma che vi vado a mostrare che è accessibile attraverso un pulsante che è in basso a destra che si chiama Suggestions o Suggerimenti in italiano attivando questo questo pulsante e ora magari sposto questa barra qua attivando questo pulsante io vado a evidenziare delle tante altre opere e dettagli di opere che hanno quel tipo di contenuto quindi vedete qui a sinistra ho alcuni temi personaggi gioielli e ritratti seleziono il tema dei gioielli e come vedete mi vengono evidenziati una serie di dettagli di di opere d'arte che contengono gioielli e questo così mi permette di fare di creare anche un percorso tematico quindi parto da un gioiello di un'opera del bronzino arrivo attraverso questa funzione all'altra all'altra opera d'arte in questo caso di nuovo del bronzino questo è il ritratto di Giovanni dei Medici da bambino e arrivo per l'appunto su un altro dettaglio che è un gioiello poi sono incuriosito da questa opera d'arte e mi sposto attraverso la miniatura che vedete in alto a destra in un'altra area mi sposto in quest'area dove ho vedo un uccello un cardellino e decido di attivare la medesima funzione dei suggerimenti in questo caso incuriosito e portato in questa attivazione della funzione da questo dettaglio dell'uccello del cardellino e come vedete le opere che mi vengono suggerite e i dettagli delle opere in questo caso sono riferiti a quel tipo di contenuto e ad esempio scelgo il secondo e dal cardellino presente nell'opera del bronzino arrivo al cardellino che invece fa parte dell'opera di Raffaello Madonna del cardellino e in questo caso diciamo quest'opera grazie alla definizione della digitalizzazione mi mostra delle caratteristiche che ora io cerco di spiegarvi anche se non sono un restauratore ma qui vedete che ci sono dei danni questi danni derivano dall'attentato che fu fatto agli uffizi alla fine degli anni 80 e questo tipo di danni diciamo queste crepe non sono non si possono restaurare però come vedete qui a sinistra più o meno nella centro dello schermo ci sono tutte queste piccole linee queste linee sono in sostanza caratterizzanti una tecnica di restauro che si chiama il tecnica del rigatino per l'appunto e questa tecnica è una tecnica che permette il restauro di un'opera d'arte in modo che nel momento in cui l'opera d'arte è visualizzata nella sua interezza non ci si rende conto del danno dell'opera e quindi in questa visualizzazione voi non vedete quel tipo di danno però se io mi avvicino si vede che in quest'area è stata apportata il restauro e per l'appunto con questa tecnica del rigatino torno indietro e faccio un attimo una evidenziazione di nuovo di un'opera di Botticelli quindi vado a cercare Botticelli se la piattaforma risponde in questo momento sembra ci sia un problema torniamo in questa vista ecco prendo volevo mostrarvi questa quest'opera di Botticelli che è la Madonna del Magnificat anch'essa conservata agli uffizi per parlare un attimo della definizione della digitalizzazione questa è un'opera che è un è in definitiva un tondo con un diametro di 118 centimetri quindi un'opera diciamo abbastanza piccola e quest'opera però è stata digitalizzata da noi da centrica qualche anno fa ad una risoluzione veramente molto alta quindi in questo caso io riesco a fare avvicinarmi così tanto all'occhio che vado a vedere i dettagli delle pennellate e vedo addirittura che Botticelli ha dipinto un riflesso della pupilla all'interno dell'occhio e se vado a fare la misurazione di quanto è questo sull'originale in questo caso sono 0,67 inch quindi diciamo meno di 2 centimetri questa immagine è un'immagine digitale da 3,6 gigapixel che tradotti in pixel in numero di pixel lato per lato sono 60.000 per 60.000 pixel quindi capite che in questo caso la definizione è davvero elevatissima e vi permette di vedere la realtà ancora diciamo più grande di quanto è nella realtà e quindi qui il magnificat è anche riferito alla diciamo alla capacità di visualizzazione di quest'opera questa caratteristica della digitalizzazione è di rendere disponibile istantaneamente questa qualità sul sulla piattaforma attraverso qualsiasi tipo di computer qualsiasi browser e attraverso tablet o smartphone è una caratteristica che riteniamo diciamo importante per rendere effettivamente accessibile l'arte a chiunque diciamo qualsiasi siano i dispositivi di accesso e le modalità torno ancora alle funzioni della piattaforma e un'altra funzione che vi evidenzia è questa delle lezioni le lezioni sono state suddivise in cicli scolastici K12 è come nel mondo anglosassone vengono individuate le classi diciamo gli studenti fino ai 12 anni poi abbiamo middle school e high school university e a seconda del tipo di di ciclo scolastico e di di lezione vengono selezionate delle delle lezioni specifiche ad esempio questa del comics in the holy and profane paintings from middle ages to renaissance va a evidenziare tutta una serie di opere d'arte crocifissi che hanno e anche altre opere che hanno diciamo all'interno un po' come se fossero delle tavole dei fumetti ma sono ovviamente le storie raccontate all'interno di queste opere d'arte in questo caso la lezione è sintetizzata a destra da questa scheda che io posso andare a mostrare o nascondere ed è costituita da circa no da 13 opere 13 opere d'arte che sono analizzabili come avete visto prima e non ci sono solamente crocifissi ma anche altre opere e questa caratteristica delle lezioni è una caratteristica interessante per ovviamente sia per i docenti nel momento in cui possono ideare e creare una lezione e memorizzarla sulle piattaforme affinché possa essere utilizzata diciamo in qualsiasi momento sia in classe sia in modalità remota vi mostro anche a proposito degli strumenti pedagogici facendo accesso diciamo ad un'altra scheda che in questo caso vi mostra l'opera di Caravaggio la Medusa abbiamo inserito recentemente la funzione delle annotazioni cioè delle dei commenti puntuali che posso andare a realizzare nella nella piattaforma per un'opera che mi permettono di inserire puntualmente dei dei commenti ad esempio qui c'è questo commento che spiega diciamo del un po' relativamente alla tecnica con la quale Caravaggio ha dipinto il sangue all'interno di quest'opera oppure posso essere incuriosito dallo sguardo e quindi vado a notare quest'opera relativamente allo sguardo e inserisco un commento di quel tipo che ora è stato posizionato un po' troppo in alto ma insomma il posizionamento avviene a seconda di dove si vuole andare ad annotare l'opera d'arte queste annotazioni sono poi diciamo nascondibili con questo pulsante che può attivarle e disattivarle e queste annotazioni possono consentire all'insegnante e prevediamo anche successivamente agli studenti di realizzare sia un'attività di insegnamento didattica sia un'attività di apprendimento e un'attività di esercizi che gli studenti possono fare anche in autonomia quindi questa è scusate un'altra caratteristica della piattaforma torno alla visualizzazione a questo tipo di visualizzazione e torno anche alla presentazione per illustrarvi altri diciamo altri temi quindi torno alla visualizzazione a tutto schermo come avete visto le caratteristiche della piattaforma arcentrica sia dal punto di vista dell'apprezzamento delle opere d'arte che dell'apprendimento e quindi delle funzioni pedagogiche quindi diciamo la comparazione piuttosto che sistemi di annotazione e la creazione di lezioni adesso faccio una considerazione di che cosa vuol dire diciamo il mercato dell'education e technology a livello globale questo è un grafico di Bright Eye Ventures è un venture capital europeo specializzato nel settore education e technology e questa è una slide che verrà presentata oggi pomeriggio in una presentazione che mi sembra è programmata per le 15 e vi fa vedere che dal 2014 al 2021 ci sono stati c'è stata un'accelerazione negli investimenti nel settore edtech e in particolare nel biennio 2020 2021 vedete che ci sono a livello globale gli stessi investimenti del periodo 2014 2019 e quindi chiaramente la pandemia e il covid hanno funzionato da acceleratore per questo tipo di tecnologie di mercato e quindi in questo ultimo biennio 2020 2021 vedete che ci sono 35 miliardi di dollari di investimenti a livello globale nel settore education e technology un altro tipo di rappresentazione di questo fenomeno questa invece realizzata da Olon IQ che è un attore importante delle ricerche di mercato nel settore education e technology di far vedere più o meno la stessa dinamica la stessa crescita anche con una suddivisione visiva che vedete paese per paese o diciamo area geografica di interesse e quindi vedete che ad esempio nel 2020 la Cina ha fatto un po' da capofila negli investimenti nel settore mentre nel 2021 la Cina è calata drasticamente probabilmente anche per le norme introdotte dal governo che vanno a limitare un po' l'espansione delle società tecnologiche e di nuovo gli Stati Uniti la fanno un po' da padrone con grosso modo mi sembra la metà degli investimenti l'Europa sta crescendo e quindi sta crescendo diciamo molto rispetto agli altri anni e comincia ad avere un peso significativo a livello globale e poi India e diciamo altri altri paesi hanno le altre parti però questo trend vi fa capire che diciamo è in atto una rivoluzione perché gli investimenti dei venture capital vanno a premiare le società con delle prospettive poi non è detto che una start up possa vada a svilupparsi efficacemente sul mercato e infatti diciamo gli venture capital in definitiva scommettono su una serie di aziende e poi solamente una su 10 una su 20 una su 30 di queste aziende sulle quali hanno scommesso effettivamente si sviluppano però in quel caso si sviluppano tanto tantissimo così da ripagare quell'investimento e anche gli investimenti che non sono andati a buon fine nelle altre start up con Arcentrica abbiamo negli ultimi 18 mesi 24 mesi da quando siamo partiti un po' con questo progetto abbiamo raccolto l'interesse a livello internazionale ad esempio nel gennaio del 2021 quindi esattamente un anno fa siamo risultati vincitori di questa competizione che è una competizione globale che si chiama GISA che sta per Global EdTech Startup Awards e siamo risultati vincitori nel settore specifico VET Geography che è patrocinato dal National Geographic che è un'istituzione ultracentenaria di tipo educativo famosa a livello globale e diciamo con Arcentica siamo stati selezionati come appunto vincitori di questa sezione recentemente a settembre del 2021 abbiamo vinto una call di un progetto europeo che si chiama Impact EdTech e in questo caso questo progetto europeo ha emanato varie call la terza alla quale abbiamo partecipato ha visto 17 aziende vincitrici su 278 partecipanti di 35 paesi e Arcentica è l'unica proposta italiana risultata vincente in questa competizione quindi diciamo siamo felici di far parte di questa accelerazione data da Impact EdTech che va a fornire ad Arcentica ha fornito in questi mesi sia delle attività di mentorship sia dal punto di vista business che pedagogico ha fornito un po' di finanziamento per lo sviluppo e se saremo selezionati anche per la fase 2 Impact EdTech porterà Arcentica all'interno di mi sembra 30 o circa 40 scuole europee e quindi per noi sarebbe importantissimo speriamo di risultare tra i vincitori che passeranno alla fase 2 e dei 17 vincitori solamente 8 passeranno a questa fase e qui vengono un po' riassunti questi riconoscimenti che abbiamo avuto ultimo della lista è Future Edie e Future Edie è particolarmente importante per noi perché Future Edie è il programma di accelerazione di cassa depositi e prestiti che è un attore governativo italiano fortissimo dal punto di vista finanziario che ha lanciato in questi ultimi due anni una serie di verticali per il finanziamento di idee innovative in vari settori e recentemente a luglio del 2021 è scaduta la possibilità di candidarsi a Future Edie noi abbiamo inviato la candidatura e siamo stati selezionati e in questo caso Future Edie è portato avanti da H-Farm che è uno degli acceleratori e degli attori del venture capital più importanti italiani ha sede a Roncade in Veneto fra l'altro una sede bellissima molto innovativa con la compartecipazione di università come Ca' Foscari e di istituti di formazione come IED quindi diciamo è anche un ambiente veramente dinamico con loro stiamo facendo questo percorso di accelerazione che terminerà a giugno del 2022 e diciamo siamo molto soddisfatti e speriamo che anche questo ci porti ad uno sviluppo di arcentrica arcentrica è disponibile in trial gratuito per 10 giorni basta registrarsi sul sito www.arcentrica.com e vi invito tutti a registrarvi perché diciamo può essere un'esperienza interessante e anche a inviarci qualsiasi tipo di commento attraverso i nostri canali di comunicazione e a seguirci poi sui social questo diciamo con questo con questa parte io ho introdotto arcentrica che è un po' diciamo un punto di arrivo per l'azienda che ho fondato un bel po' di anni fa che si chiama centrica insieme a dei miei soci arcentrica probabilmente diventerà una start up innovativa a brevissimo e nelle prossime prossime minuti oltre a diciamo nel momento opportuno a sentire la regia se ci saranno dei commenti delle domande vorrei illustrarvi rapidamente altre due cose che ritengo importanti e che ci hanno anche portato diciamo a questo risultato intanto grazie al premio che abbiamo vinto nel gennaio 2021 abbiamo attivato una collaborazione con il National Geographic e il National Geographic ha voluto realizzare insieme a noi basato sulla piattaforma arcentrica questa exhibition online che si chiama The Greatest Wildlife Photographs che è basata proprio sulla piattaforma arcentrica e che permette in questo caso di vedere le foto dei grandi fotografi che hanno resa famosa il National Geographic e diciamo le caratteristiche le funzioni che avete visto prima applicate all'arte in questo caso sono applicate alle foto del National Geographic con in più anche la possibilità di accedere a queste foto attraverso una mappa geografica mappa geografica interattiva che vi fa accedere alle foto e anche alle regioni che sono un po' gli ecosistemi di appartenenza di questi animali selvaggi il sito di accesso è ngs.arcentrica.com in questo caso è ad accesso completamente gratuito quindi vi invito a vederlo e apprezzare questo tipo di foto attraverso questa nostra tecnologia passo a rapidamente ad altri due temi che sono uno quello della digitalizzazione e l'altro quello delle exhibition immersive perché mi permette di collegarmi a quanto vi dicevo prima relativamente ad arcentrica la digitalizzazione altissima risoluzione è qualcosa che noi abbiamo fatto partire proprio all'inizio della fondazione di centrica quindi tanti anni fa nel 99 e abbiamo un'esperienza veramente molto forte in questo tipo di tecnologia con la possibilità di andare in un museo e attraverso una campagna di digitalizzazione come abbiamo fatto agli uffizi in quel caso pluriannale creando oltre 1300 immagini digitali altissima risoluzione di relative opere creare diciamo l'asset digitale che è alla base di esperienze come quella che avete visto poco fa di arcentrica e la tecnologia che abbiamo messo a punto si chiama true pixel quindi l'idea è di andare a prendere i dati dagli originali che sono effettivamente i massimi dati diciamo a disposizione ottenibili e con quelli diciamo andare a creare con le altre tecnologie software che abbiamo sviluppato delle immagini da gigapixel che possono poi essere utilizzate all'interno di piattaforme come arcentrica oppure qui vedete anche una fase di scatto all'interno della galleria degli uffizi oppure anche all'interno di mostre immersive interattive come Renaissance Experience nel caso specifico di Renaissance Experience Renaissance Experience è una produzione di Virtu Italy che è una startup innovativa anch'essa che è controllata da Centrica Virtu Italy l'abbiamo fondata nel 2015 e all'interno delle attività qui scorro rapidamente le slide in sostanza abbiamo messo a punto un format che è sia immersivo sia interattivo la prima exhibition fu fatta alla fabbrica del vapore nel 2016 ed era uffizi virtual experience la fabbrica del vapore ha un'area con una molto ampia dove abbiamo realizzato questa mostra con il patrocinio del ministero dei beni culturali del comune di Firenze e del comune di Milano e qui vedete alcune delle diciamo delle aree in questo caso l'area immersiva che erano state allestite e dove era possibile sperimentare questa esperienza in questo caso digitale ma in un luogo fisico con queste opere d'arte affiancata poi da quella che poi è diventata arcentrica con vari tipi di installazioni qui vedete il gradimento del pubblico e i commenti entusiastici i commenti dei media qui ci siamo spostati invece in Germania nel 2018 dove abbiamo portato di nuovo Renaissance Experience in un luogo deputato alla realizzazione di mostre immersive chiamato Kunstkraftwerk e anche lì diciamo qui abbiamo introdotto anche la una introduzione a Firenze e il rinascimento a Firenze dal punto di vista architettonico qui vedete un paio di immagini di quel tipo di installazione con tutta la parte interattiva basata sulla piattaforma arcentrica in vari tipi di declinazioni adesso se riesco vi faccio vedere un brevissimo video che vi dà un po' contezza di quanto vi stavo dicendo del di Renaissance Experience passo alla modalità full screen e faccio partire questo video un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi con l'arrivare della pandemia, diciamo, questo tipo di mostre è stata un po' bloccata, speriamo di riprendere a brevissimo e di nuovo con un progetto di portarla in Cina, a Pechino e anche negli Stati Uniti. Chi è dietro, diciamo, a questo tipo di realizzazione? Io insieme ai miei due soci e co-founder Paolo De Rocco e Paolo Romoli e poi un team interdisciplinare che è costituito sia da sviluppatori software, da soci dell'arte, insegnanti, esperti di digitalizzazione, di comunicazione e ovviamente anche di sviluppo business. E come vedete siamo più o meno 50% uomini, 50% donne, quindi abbiamo anche un equilibrio da questo punto di vista. Quindi, diciamo, che cosa stiamo cercando di fare? Di portare una nuova esperienza con l'arte e anche, diciamo, con altri temi sia a scuola e in prospettiva anche, diciamo, a casa. Questo è un po' un progetto di sviluppo che avremo nei prossimi due anni. Io adesso chiederei alla regia se ci sono commenti o domande o curiosità da parte del pubblico. Non so se devo interrompere la condivisione o se ci pensate voi. Allora, interrompo la condivisione, quindi passo in questa modalità. Scusate. Scusate. Chiedo. Allora, domande a schermo. Ah, come ti è venuto in mente questo progetto? Allora, diciamo, ci sono state molte fasi, però racconto alcuni punti importanti. Nel 2010 noi come Centrica fummo invitati a Shanghai all'interno del Padiglione Italia durante l'Expo 2010 perché avevamo ideato una versione, diciamo, una prima versione di quello che oggi è arcentrica con caratteristiche diverse, nel senso che tutto era condensato all'interno di una di una installazione touchscreen chiamata Uffizi Touch. In quel caso il progetto era dedicato solamente agli Uffizi e però in questa installazione chiamata Uffizi Touch noi condensammo sia tutte le digitalizzazioni, quindi 1300 digitalizzazioni in altissima risoluzione sia la parte software che allora non comprendeva quella parte di correlazione semantica che avete visto che vi porta da un gioiello all'altro, ma permetteva comunque di apprezzare l'altissima qualità delle opere attraverso queste installazioni interattive. e a Shanghai siamo arrivati attraverso la selezione da parte dell'allora Ministero dell'Innovazione che ci selezionò per essere presenti all'interno del Padiglione Italia nell'ultimo piano del padiglione nella biblioteca Marco Polo e quindi siamo stati sei mesi a Shanghai con questa installazione e quello è stato un po' diciamo un punto di svolta perché ci ha fatto capire quanto fosse diciamo potente questo tipo di rappresentazione, di interazione con le opere e da lì diciamo ci sono stati tutti gli sviluppi che poi hanno portato nel tempo attraverso lo sviluppo delle tecnologie cloud e di altre tecnologie come quella di correlazione tra concetti e dettagli di opere hanno portato poi nel tempo ad Arcentrica. Cito anche un'altra esperienza che è accaduta sempre nel periodo dell'Expo perché quel tipo di quella quest'altra esperienza che invece è stata di creare con queste installazioni con 10 installazioni una mostra virtuale che fu chiamata Uffizi Virtuale che portammo grazie alla collaborazione con la regione toscana e con l'allora toscana promozione portammo all'interno del Museo Nazionale di Shanghai di People Square e in quel caso rimanemmo mi sembra 23-25 giorni con questa mostra che era realizzata con 10 installazioni all'interno del museo e ci furono più di 30 mila visitatori in quei 23-25 giorni di mostra e quella è stata un'altra cosa un'altra diciamo esperienza importantissima perché ci ha fatto capire le potenzialità di inserire il digitale legato all'arte all'interno di spazi fisici espositivi e è stato un po' diciamo il punto di appunto che ci ha fatto capire che un'esperienza come Virtu Italy poteva essere vincente quindi poi ci ha portato nel 2015 alla fondazione di Virtu Italy. Allora ringrazio per questa domanda sui materiali perché come avete visto nella breve demo di Arcentrica alcune immagini sono davvero ad altissima risoluzione quindi a qualche gigapixel di risoluzione ma in altri casi le immagini sono delle buone immagini digitali ma diciamo non necessariamente a gigapixel e quindi noi attraverso Arcentrica andiamo in due direzioni da una parte possiamo collaborare con un museo per realizzare delle immagini a gigapixel da inserire all'interno della di Arcentrica ma possiamo anche collaborare andando a inserire ciò che il museo ha disponibile magari con immagini da 10 20 megapixel che però sono ugualmente importanti e diciamo interessanti per l'apprendimento e quindi possiamo andare nelle due direzioni colgo anche l'occasione per evidenziare una caratteristica del nostro modello di business e di ricavi che vede i musei come partner non come clienti e vede il settore educativo andare a riconoscere diciamo all'azienda un canone annuale che è dimensionato in funzione del numero di studenti numero di classi che accedono alla piattaforma e il 30 per cento di quello che noi ricaviamo attraverso questi canoni viene riconosciuto ai musei che partecipano ad Arcentrica quindi è un modello che noi definiamo win-win-win vince il museo che vede valorizzato il proprio asset digitale anche dal punto di vista economico oltre a comunicarlo attraverso una piattaforma evoluta come Arcentrica vince il settore educativo che ha un servizio innovativo che porta l'arte appunto nelle classi in modalità remota e vinciamo noi che attraverso queste innovazioni e queste collaborazioni cresciamo e diciamo ci facciamo conoscere a livello nazionale e internazionale questa domanda di come possiamo contribuire a invogliare i musei credo che sia un aspetto importantissimo crediamo che i giovani siano sempre più abituati all'utilizzo del digitale e applicazioni potenti e sofisticate che li possono raggiungere ovunque attraverso Arcentrica è possibile avere questo tipo di esperienza e come abbiamo avuto modo di capire anche per esempio con i commenti che avevamo quando facevamo la mostra a Milano il digitale sebbene utilizzato in questa direzione può essere un fortissimo stimolo a poi effettuare una visita fisica più consapevole all'interno del museo quindi vediamo come Arcentrica come una modalità di accelerare questo processo e di invogliare i giovani a visitare i musei fisici allora nei prossimi anni sicuramente la fruizione dell'arte in digitale aumenterà come sta aumentando diciamo qualsiasi tipo di utilizzo del digitale pensiamo che questo tipo di fruizione possa essere appunto un modo per capire meglio ciò che si va a visitare fisicamente nel museo e rendere anche più più preziosa l'esperienza fisica di visita quindi ci sarà un aumento della fruizione digitale che speriamo e pensiamo possa portare a una maggiore consapevolezza nel momento in cui si va fisicamente in un luogo e si apprezzano diciamo le opere d'arte laddove sono conservate da decenni o da secoli grazie a tutti per per l'ascolto e per la per la visione io vi invito di nuovo a registrarvi su Arcentrica e grazie a campus party per l'ospitalità e al diciamo il personale che mi ha affiancato in questa presentazione grazie